Pampi posso chiederle perché non ha detto niente riguardo la pineta la situazione attuale guarda che quella cosa, la recensione l'ho fatta io la pulizia di quello che c'era di quello che è stato fatto l'ho fatto io ho pulito tutte quelle porcherie che stanno e le ho messe in sicurezza io amico mio vai a cacare un altro bambino ma si renda cosa, si rende questo ma adesso si può raccontare questa discorsa non dire il caso non è importante si scoppa le camere non si può fare una domanda con la telecamera grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti